Sono passati 12 anni e nonostante le condanne, gli appelli, le assoluzioni, i fatti di Genova al G8 del 2001 sono ancora una ferita aperta. Il 14 giugno scorso la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello con 7 condanne e 4 assoluzioni per le violenze della polizia nella caserma di Bolzaneto. Ma per qualcuno i fatti di Piazza Limonda, avvenuti il giorno prima dell'irruzione nella scuola Diaz, gridano ancora vendetta. Quel pomeriggio del 20 luglio alle 17.30 rimase ucciso Carlo Giuliani, 23 anni, uno dei manifestanti anti-G8. Ufficialmente il giovane muore sotto i colpi di arma da fuoco di un carabiniere, Mario Placanica, mentre scaglie un estintore contro la camionetta del 12esimo battaglione Sicilia. Placanica sarà indagato e prosciolto nel 2003, legittima difesa si legge nel dispositivo, e il procedimento sulla morte di Giuliani archiviato. Oggi, dopo un lungo silenzio, torna a parlare il padre del ragazzo, Giuliano Giuliani. Dopo aver studiato per un decennio foto, video, registrazioni telefoniche, ha citato al Tribunale Civile di Genova Mario Placanica. «La verità su mio figlio è da riscrivere», racconta il Corriere della Sera. «La mia è una convinzione che va in direzione ostinata e contraria», dice, usando le parole di Fabrizio Di Andrè. Secondo la verità processuale, i fatti andarono così. Il giovane muore ucciso da un colpo di pistola sparato in aria da Placanica. Il proiettile, deviato da un sasso lanciato da manifestanti, colpisce il ragazzo alla testa. «Nemmeno nei cartoni animati», dice il padre, che parla anche di un video, un video di 18 minuti e 16 secondi, dove si vedrebbe chiaramente Carlo Giuliani che solleva l'estintore a 4-5 metri di distanza da Placanica, mentre questi punta la pistola più in alto rispetto al volto del giovane. Ma secondo il medico legale, il proiettile sarebbe entrato nel volto di Carlo dall'alto verso il basso. «Dunque come può essere?», si chiede il padre, «secondo cui il figlio sia ancora vivo dopo il colpo di pistola e quando la camionetta, braccata dai manifestanti, mentre cerca di allontanarsi, per due volte passa sopra il colpo del ragazzo». «Carlo non muore neanche in quel momento», dice il padre, «perché continua a sanguinare e chi ha il cuore fermo non emette sangue». E ancora, a dare il colpo di grazia al figlio, dice, potrebbe essere stato un sasso scagliato sulla fronte, come documento a una ferita sul viso, che però non avrebbe lasciato segni sul passamontagna. «Si vede chiaro in una foto che ho recuperato», racconta Giuliani. «L'unica spiegazione», dice, «a Carlo steso a terra, gli hanno sollevato il passamontagna, lo hanno colpito con un sasso e se ne sono andati». Nei destini incrociati di quel pomeriggio genovese, quello di Mario Placanica è la storia di un ragazzo senza più pace. Un incidente stradale nel 2003, poi, due anni dopo, l'uscita dall'arma dei carabinieri, che lo ritengono permanentemente non idoneo. Infine rimane imbrigliato in una brutta storia di presunti abusi sessuali verso la figlia minorenne della sua ex compagna.